Dai Lele, dai, 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 buone, bravo, 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 vai, gas, dai, dai, dagli gli occhiali, cazzo come fai a non vederlo? Dai, non ti prendiamo nessuno. passata la radice lì la radice fa la piano passata passata con la radice lì che è quella che ti scompone un po la fai piano la passi ti imposti bene dritto in posizione gas aperto continuo non fare boh 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 gas aperto vai 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 dai adesso c'è un troppo di quale sasso grande e voglio farmene una anch'io e non fatta anche a zero e non fai ok 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 comunque pensavo peggio davanti arrivi già alto ok 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 se l'hai già fatta a zero adesso te la fai la fai uno davanti e uno dietro cavallo te lo mangi bravo Michele bravo 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 Questa è una rischiata. Al minimo! Al minimo! Professionista! Questa è una rischiata. 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 Questa è una rischiata.